Benvenuti nel mio canale. La notizia di oggi è Johnny Lawrence e il protagonista della clip estratta dalla quinta stagione di Cobra Kai e condivisa da Netflix su YouTube. Il filmato ha regalato divertenti immagini con l'iconico personaggio che da decenni appassiona gli spettatori. Cobra Kai 5, la clip inedita.William Zabka è pronto per tornare a rivestire i panni di Johnny Lawrence nei nuovi episodi della serie in arrivo il 9 settembre sulla piattaforma di streaming, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Manca sempre meno all'uscita della quinta stagione della serie con protagonisti Johnny Lawrence e Ralph Macchio, quest'ultimo nel ruolo di Daniela Russo. Il recente filmato pubblicato ha mostrato Johnny Lawrence nel suo nuovo impiego, ovvero quello di autista per un'azienda di ride sharing. Cobra Kai, la clip con Daniela Russo e Chosen Toguc.A inizio settembre Netflix ha distribuito un'altra clip, questa volta con protagonisti Daniela Russo e Chosen Toguc, il secondo interpretato da Yui Okumoto. Cobra Kai, la clip con Terry Silver e Kim Daewon.Prima era stata la volta del filmato con Thomas Ian Griffith e Alicia Anna Kim nei panni di Terry Silver e Kim Daewon. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione. 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 Grazie a tutti.